Dasti comunica in accordo con l'amministrazione comunale di Caltanissetta alcune variazioni dei servizi di raccolta differenziata ed igiene ambientale durante le giornate festive di Natale a Santo Stefano, Capodanno ed Epifania. Si invitano pertanto gli utenti alla massima collaborazione al fine di mantenere il decoro ambientale degli spazi cittadini. Il ritiro dei rifiuti sarà regolare come da calendario settimanale della raccolta differenziata, sia per il servizio porta a porta che nelle zone servite con i contenitori stradali di prossimità. Nel centro storico della città il servizio di spazzamento e igiene ambientale sarà garantito regolarmente anche durante i giorni festivi. Il numero verde d'asti non sarà operativo per l'assistenza e per la prenotazione del ritiro dei rifiuti ingombranti nelle giornate di 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio. Sarà invece attivo sabato 24 e 31 dicembre. Nelle giornate di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania il centro comunale di raccolta di Contrada Cammarelle sarà chiuso e il centro comunale di raccolta mobile non sarà posizionato. Entrambi saranno operativi invece sabato 24 e 31 dicembre secondo il consueto orario. Contrada Cammarella, ingresso libero dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Dalle 7 alle 14 a Pian del Lago, di fronte allo stadio. Qui si possono conferire anche piccoli elettrodomestici e piccoli ingombranti.